Tra it sua quemque voluptas. Ciascuno il suo fine, la sua ambizione, se si vuole. Il gusto più segreto, l'ideale più aperto. Il mio era racchiuso in questa parola. Il bello. Di così ardua definizione a onta di tutte le evidenze dei sensi e della vista. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo. Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate d'acque limpide, popolate da esseri umani, il cui corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù, né dal turgore di una ricchezza volgare. Che gli alunni recitassero con voce ben intonata lezioni non fatue, che le donne al focolare avessero nei loro gesti una sorta di dignità materna. Una calma possente. Che i ginnasi fossero frequentati da giovinetti non ignari, dei giochi né delle arti. Che i frutteti producessero le più belle frutte, i campi le messi più opime. Volevo che l'immensa maestà della pace romana si estendesse a tutti, insensibile e presente come la musica del firmamento nel suo moto. Che il viaggiatore più umile potesse errare da un paese, da un continente all'altro, senza formalità vessatorie, senza pericoli, sicuro di trovare ovunque un minimo di legalità e di cultura. Che i nostri soldati continuassero la loro eterna danza pirrica alle frontiere. Che ogni cosa funzionasse senza inciampi, l'officina come il tempio. Che il mare fosse solcato da belle navi e le strade percorse da vetture frequenti. Che, in un mondo ben ordinato, i filosofi avessero il loro posto e i danzatori il proprio. A questo ideale, in fin dei conti modesto, ci si avvicinerebbe abbastanza spesso se gli uomini vi applicassero una parte di quell'energia che van dissipando in opere stupide o feroci. E durante l'ultimo quarto di secolo, la sorte propizia mi ha consentito di realizzarlo in parte. Ariano di Nicomedia, uno degli spiriti più eletti del nostro tempo, si compiace di rammentarmi i bei versi nei quali il vecchio Terpandro ha definito in tre parole l'ideale di Sparta. Il modus vivendi perfetto, sognato e mai raggiunto dalla cedemone. La forza, la giustizia, le muse. La forza stava alla base e senza il suo rigore non può esserci bellezza. Senza la sua stabilità non v'è giustizia. La giustizia componeva l'equilibrio delle parti, le proporzioni armoniose che nessun eccesso deve turbare. Ma la forza e la giustizia non erano che uno strumento agile ed utile nelle mani delle muse. consentivano di tenere lontane tutte le miserie e le violenze come altrettante offese al bel corpo dell'umanità. Ogni nequizia era come una nota falsa da evitare nell'armonia delle sfere. La forza e la giustizia non v'è giustizia non v'è giustizia non v'è giustizia. La forza e la giustizia non v'è giustizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.